A Caltanissetta nell'ultimo anno sono aumentati i reati denunciati, 216 in più rispetto al periodo precedente. Eseguito il 4% in più di arresti, 184, e denunciate 1.049 persone, ovvero il 10% in più. Sono 32.241 invece le richieste di intervento arrivate alla sala operativa della Questura Nissena. Ben il 10% in più e 10.584 sono gli interventi delle volanti. E' il Questore Emanuele Ricifari che dopo un anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid ha reso pubblici i dati sull'attività svolta dalla Polizia di Stato a Caltanissetta nell'intera provincia. Così nel corso dell'attività di prevenzione e contenimento della pandemia per il periodo dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 sono state controllate 46.168 persone e 3.276 esercizi commerciali. Sanzionate 344 persone e 42 esercenti e disposta alla chiusura di quattro attività commerciali per violazioni delle misure di contenimento. Le limitazioni e i dati che ne derivano riguardanti lo stesso periodo hanno influito sull'andamento della delittosità nell'anno di riferimento rispetto allo stesso periodo precedente. Sono infatti diminuite le rapine del 50% e il 60% degli scippi. Diminuiti anche i furti in appartamento del 35%. Sono tuttavia aumentati i tentativi di omicidi. Ve ne sono stati 5 nella intera provincia nissena. Quindi più 40% rispetto allo scorso anno. 27 le estorsioni e si va a un più 69%. 122 i furti d'auto più 77%. Truffe e frodi informatiche 615 quindi più 62%. Dal punto di vista del contrasto alla criminalità le attività svolte per prevenzione e repressione dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022 ha consentito di denunciare in stato di libertà 1.049 persone e di arrestarne 184, 94 in flagranza di reato e 90 su ordine dell'autorità giudiziaria. L'azione repressiva di contrasto al traffico e produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ha consentito alla Polizia di Stato nissana di portare a termine più operazioni di Polizia giudiziaria con 41 arresti, 44 denunce in stato di libertà e 77 segnalazioni per uso personale. Tra le operazioni di rilievo da ricordare quest'anno l'operazione di Polizia giudiziaria antidroga Notti Bianche e l'operazione di Polizia giudiziaria antimafia La Bella Vita. Domani per il 170esimo anniversario e la festa della Polizia di Stato si terrà al Teatro Margherita dalle 11 del mattino.